Se solo ci fosse un modo per collegare il cavo di rete e l'HDMI al mio MacBook Air con GPM1. Mini so puro ci dà la soluzione. Ma prima, unboxing. Lo sapevate che più del 90% di voi non è iscritto a questo canale, per cui cosa aspetti? Iscriviti, attiva la campanellina per non perderti incredibili video. Ciao, io sono Lorettec e in questo video vi mostrerò una dogging station indispensabile se come me possedete un MacBook Air con GPM1. Prima di cominciare con l'unboxing vi faccio vedere un attimo la confezione. Brand mini so puro, l'avete già visto in questo canale, 15 in 1 USB-C display dogging station. Si alimenta attraverso la porta USB-C del nostro MacBook Air o Pro e ci dà la possibilità di avere un sacco di uscite e un sacco di porte. Possiamo collegare fino a 4 display, multifunzione, un design molto bello, corpo in alluminio. Nella parte posteriore ci fa vedere tutte le opportunità e tutto quello che noi possiamo fare. Il packaging è completamente in cartone, molto interessante. Andiamo all'unboxing. Qui abbiamo la nostra dogging station che vedremo fra un attimo. Tiriamo su. Qui abbiamo il manuale. Il manuale è un bellissimo cavo USB-C e devo dire di ottima fattura. Telato, parti in alluminio, questo alluminio scuro, molto molto interessante. Veniamo al nostro pezzo forte, si presenta in questo modo, alluminio, brand mini so puro in alluminio scuro, con questo grigio scuro. Qua abbiamo tutte le uscite, tutte le periferiche. Micro SD, SD, tre porte USB 3, porta USB-C, altre due porte USB 3, jack per le cuffie. Nella parte posteriore abbiamo altre tre USB-C, una per alimentare la nostra docking station, due HDMI, una VGA e un'uscita LAN molto molto comoda perché sia il MacBook Air che il MacBook Pro con chip M1 hanno soltanto le USB-C. Quindi questa è veramente una cosa in più. Mi piace molto la finitura, tutto in alluminio, questo ci permette di dissipare al meglio il calore. Sotto abbiamo questi piedini gommati per non rovinare le superfici. Molto bella la cura nel dettaglio, questi fori permetteranno di dissipare il calore prodotto dalla docking station. Ma direi di non perdere altro tempo e di andarla a installare subito. Prendiamo il nostro cavo, un'estremità andrà collegata qui, in questo modo, e l'altra al nostro MacBook Air. Io sceglierò questa porta USB-C. A questo punto possiamo andare a collegare sia il cavo di rete che l'HDMI. È il mio setup definitivo, ho deciso di poggiare la docking station qui sulla mia lampada. Questo è un supporto in alluminio che poi vedrete prossimamente in qualche video che ci permette di tenere posizionato il MacBook Air in questo modo. Direi adesso di andarla a provare subito. Andiamo ad accendere il nostro monitor, cambiamo sorgente. Che cosa fare? In questi casi non viene automaticamente rilevato. Dobbiamo andare nelle impostazioni e abilitare il monitor impostazioni. Andate alla voce schermi, cliccate qui sul più. Qui abbiamo la voce 32 pollici Samsung Smart M7. E come vedete abbiamo riprodotto il display del MacBook Air M1 sul mio Samsung M7. Un 32 pollici 4K. L'audio verrà riprodotto automaticamente sul nostro monitor. Una bellissima funzione di questo monitor è poter utilizzare il telecomando per poter aumentare e abbassare il volume. O anche in alcuni casi mutarlo. Veramente molto molto comodo. Che periferiche utilizzo con il mio MacBook Air? La mia MX Mini in colorazione bianca con il grigio. Supporta le funzioni per macOS. È il mio nuovo dispositivo, il nuovo trackpad che mi permette di sostituire il mouse della Logitech per essere molto più funzionale e veloce. Soprattutto durante il montaggio video con Final Cut. Adesso però volevo parlarvi dei vantaggi di possedere una dogging station. Uno fra tutte la moltiplicità di porte. Possiamo espandere il nostro MacBook Air con chip M1 che purtroppo possiede solo due USB-C e avere una valanga di periferiche. Dalla micro SD che ci permette di poter passare i nostri dati se abbiamo un action cam. Se come me possedete un DJI Mini 3 Pro è veramente una manna dal cielo. Non dovete fare altro che rimuovere la micro SD e andarla a inserire. Niente di più facile e veloce. Potete comunque in alternativa attraverso l'adattatore di SanDisk poterla inserire nell'uscita SD. Ma le uscite non finiscono qui. Se avete una classica chiavetta USB 3 di tipo USB A non dovete fare altro che andarla a inserire. Inoltre nella parte frontale è presente una USB-C. Una manna dal cielo se come me possedete dei box SSD M2 esterni per archiviare o passare i dati. Per chi se lo stesse chiedendo questo è il nuovo box SSD M2 di casa Asus. Il TAF A1. Finalmente posso anche utilizzare l'oro in tutta praticità senza andarla a inserire nella parte sinistra del mio MacBook Air. Con l'uscita jack da 3.5 pollici è veramente una manna dal cielo. Andiamo a inserire il cavo. Possiamo goderci in tutta serenità un bel video su YouTube o magari lavorare senza disturbare i vicini. E poi il cavo è anche abbastanza lungo. Potete volendo decidere di farlo passare sotto la scrivania. Vi ricordo inoltre che nella parte posteriore della dogging station possiamo collegare tante altre cose. Ecco ve lo mostro nel mio caso abbiamo ancora disponibili due porte USB-C, un'altra uscita HDMI, un'altra uscita VGA. Veramente molto molto comodo. Ma se possedete una scrivania piccola potete comunque risolvere il problema posizionandola nella parte sottostante della scrivania. Come ho fatto con il mio Mac Mini M1. Questa è l'altra soluzione che vi dicevo. Potete andare magari con un biadesivo, andarla ad applicare nella parte sottostante della scrivania così da avere tutto a portata di mano. Ma le funzionalità non finiscono qui. Possiamo anche collegare un iPad Air, in questo caso con il chip M1, direttamente alla nostra docking station per avere un monitor in più. Se non avete un monitor grande. Che figata. Sì, dobbiamo andarla a collegare con il cavo USB-C nella parte frontale della nostra docking station. Beh, adesso la domanda sorge spontanea. Vale la pena acquistare questa docking station? Per me è sì. Se come me possedete un MacBook Air o un MacBook Pro con solo due uscite USB-C è sicuramente la soluzione migliore. Potete collegare una valanga di dispositivi. Questo vi permette sicuramente di aumentare la produttività. Avendo come me una scrivania potete decidere se posizionarlo nella parte superiore o sottostante della scrivania per recuperare ancora spazio. Molteplici sono le possibilità. Potete collegare la qualunque cosa. Dalle chiavette USB alle micro SD alle SD normali. Potete collegare un cavo di rete fino a quattro monitor. Una valanga di porte USB-C. Potete anche collegare un microfono se come me ne possedete uno di tipo standard USB-A. È veramente una manna dal cielo. Chiaramente il prezzo non è indifferente. Ma se volete sfruttare appieno il vostro MacBook Air o Pro questa è sicuramente la scelta migliore. Qualità costruttiva devo dire ottima. Corpo in alluminio scalda veramente pochissimo. Ci permette di dissipare facilmente il calore. Nella confezione è presente anche un cavo molto performante di tipo USB-C USB-C che sicuramente è utile. Magari sarebbe stato più utile averlo un pochettino più lungo per facilitare un po' l'installazione. Ma questo non è un problema. Potete comunque in ogni caso andarlo a sostituire. Adesso però voglio sapere la vostra. Che cosa ne pensate di questa docking station di Miniso Puro? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. A questo punto non mi resta fra l'altro che salutarvi. Da Miniso Puro e da Lorettec era tutto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!